Una lettera per sensibilizzare al risparmio energetico ed esortare e ottimizzare i consumi, con alcune raccomandazioni di ordine generale che si rifanno alla guida operativa per i dipendenti adottata dall'Enea. La missiva è stata inviata al personale e agli operatori della Giunta regionale dell'Abruzzo, dall'assessore uscente Guido Liris, in virtù delle sue deleghe a personale bilancio e patrimonio, ora neoeletto in Senato alle ultime elezioni. Un appello, insomma, al risparmio energetico, sì, anche alla luce del fatto che la Regione Abruzzo ha ben 80 sedi disseminate sul territorio. Liris auspica che siano valutate le migliori soluzioni da proporre, verificando la possibilità di accelerare i processi genitinere per la razionalizzazione delle sedi, la programmazione di interventi di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio regionale, l'efficientamento degli impianti e degli apparati e la connessa revisione della organizzazione del lavoro. Insomma, per dirla breve, la parola d'ordine è moderazione e risparmio. Liris invita ogni dipendente a un uso intelligente e razionale dell'energia, che possa accompagnarci quotidianamente come cittadini prima ancora, che aggiunge come dipendenti pubblici, adottando quei comportamenti quotidiani e virtuosi volti ad evitare gli sprechi e quindi a ottimizzare i consumi. Anche perché altra scelta non ce n'è. Una Regione a tutto gas, spendendo le massime energie, certo, ma a servizio dei cittadini, non ovviamente dal punto di vista del caro Bollette. Grazie a tutti.